Tassazione, tasse, criptovalute, domande frequenti. Fuck! Benvenuti su Criptovalute Italia, benvenuti in un nuovo video della playlist della rubrica Piscalità Criptovalute. Ogni mercoledì ore 13 da ormai diverse settimane sta uscendo un nuovo video dedicato alla fiscalità delle criptovalute dove stiamo cercando di rendere semplice questo concetto e quindi la spiegazione di quella che è la tassazione delle criptovalute in Italia. Per adesso stiamo affrontando l'argomento Italia. Abbiamo visto nei video precedenti se bisogna pagare le tasse sulle criptovalute abbiamo quindi risposto a questa domanda, abbiamo anche visto quando devono essere pagate eventualmente queste tasse sulle criptovalute come funziona la tassazione sugli NFT, sul trading classico e di criptovalute e molto altro. Quindi abbiamo risposto a diverse domande, abbiamo affrontato diversi argomenti in questo video naturalmente abbiamo voluto convogliare un po' tutte le domande che ci avete fatto nei giorni scorsi e quindi vogliamo rispondere a queste domande e lo faremo naturalmente come sempre con il dottor Federico Pampana a cui lascio la parola. Anche questo aspetto sicuramente molto importante è da approfondire. Diciamo per così dire, purtroppo la modalità con cui le criptovalute vengono detenute non va a cambiare quello che è il meccanismo della tassazione. Quindi sia che io vada a detenere i miei bitcoin su un determinato wallet piuttosto che su un altro sia che io vada a detenerli su due exchange diversi piuttosto che su un unico exchange sia che io vada a detenerli su una tipologia di portafoglio piuttosto che un altro vengono sempre le stesse regole. Quindi ad esempio il limite dei 51.000 euro al superamento del quale si applica la liquida del 26% per le eventuali plusvalenze vale anche se l'importo dei bitcoin è detenuto su due exchange diversi, vale anche se è detenuto su più wallet. La normativa rimane sempre la stessa e quello che rileva è la persona fisica che detiene. Quindi una persona fisica che detiene un importo di criptovalute che va a superare i 51.000 euro per più di sette giorni all'anno a titolo di giacenza media anche se le detiene diciamo su più piattaforme, su più exchange, su wallet diversi o su wallet di tipologia diversa comunque sia deve sottostare diciamo alla normativa che prevede che avendo superato il famoso importo di 51.000 euro il 26% su quelle plusvalenze eventualmente generate debba essere tassato. E' importante precisare che al superamento del limite di 51.000 euro non è necessario che ci siano delle plusvalenze potrebbero anche essersi verificate delle plusvalenze. Ovviamente se ci sono delle plusvalenze si calcola in sede di dichiarazione dei redditi il 26% e si va a effettuare il versamento tramite F24. Qualora ci fossero delle minusvalenze anche queste vengono inserite nella dichiarazione dei redditi e vengono utilizzate nell'anno successivo a compensazione delle eventuali plusvalenze che appunto nell'anno successivo si andranno a verificare. Mettiamo un po' di numeri perché questo sicuramente ci aiuta sempre a spiegarci meglio. Ipotizziamo che ho superato il famoso limite dei 51.000 euro. Ho ottenuto una minusvalenza di 50.000 euro nel corso del 2022. Non andrò ovviamente a pagare il 26% su alcunché perché non c'è plusvalenza. Riporto a nuovo si dice in gergo tecnico inserendola nella dichiarazione questa minusvalenza di 50.000 euro. L'anno successivo nel 2023 ho una plusvalenza di 100.000 euro. A quel punto non andrò a pagare il 26% sulla plusvalenza di 100.000 euro ma andrò a pagare il 26% solamente su 50.000 euro. Quindi 100.000 euro di plusvalenza del 2023 meno i 50.000 euro di minusvalenza che avevo portato a nuovo tramite la presentazione della dichiarazione dei redditi. Quindi la presentazione della dichiarazione dei redditi per quello che concerne i bitcoin o comunque le cripto oltre ad essere un obbligo normativo che va sempre effettuato per evitare sanzioni da parte dell'agenzia delle entrate può essere anche un'opportunità. Cioè il fatto di presentare la dichiarazione dei redditi se ho una minusvalenza mi permette diciamo così di non mandar persa quella minusvalenza perché viene poi appunto riportata a nuovo nell'esercizio successivo andando ad abbattere la plusvalenza che eventualmente si è andata a generare. Tutti questi ragionamenti valgono a prescindere dalla tipologia di bitcoin detenuto, a prescindere dal wallet utilizzato, a prescindere dal portafoglio, a prescindere dalla tipologia di exchange. La normativa, le scadenze fiscali, gli importi e le aliquote restano sempre e comunque le stesse. Ora è importante anche sapere che ci sono appunto delle tempistiche da dover rispettare. Il termine ultimo per presentare la dichiarazione dei redditi è il 30 ottobre dell'anno successivo ma è bene farlo, come dicevamo, nei mesi di giugno e luglio perché quella è la scadenza delle imposte. Sicuramente tra le nuove metodologie che un commercialista 3.0 deve sicuramente avere c'è anche quello di occuparsi di questi temi nuovi dove la normativa non è ancora molto sviluppata come appunto le criptovalute perché sicuramente c'è un'assenza normativa in Italia, infatti l'unica regolamentazione prevista specifica della parte del legislatore italiano è quella che ci dice che le criptovalute sono assimilate ad investimenti in valuta estera. Trattandosi però con le criptovalute di un qualcosa che sta prendendo sempre più piede anche nel mondo di tutti i giorni, anche da parte delle persone comuni, non è un qualcosa di riservato esclusivamente agli investitori magari altamente specializzati, è importante appunto che un consulente, un commercialista 3.0 sappia consigliare i propri clienti all'interno di questo mondo. Tra l'altro potrebbe anche capitare che un soggetto, una persona, un imprenditore che ha un'azienda, che è titolare di un'azienda e quindi magari ha la necessità di tutti gli aspetti contabili e fiscali che il metodo VIX si prefigge possa anche andare ad investire magari i proventi di quell'azienda all'interno delle criptovalute e quindi è importante sia che lui sappia il funzionamento sia che abbia un consulente 3.0 che glielo sappia spiegare e che sappia indicargli tutte le scadenze. Detto questo andrei direttamente al punto spiegando innanzitutto che le criptovalute appunto sono assimilate a valuta estera. Questo significa che il solo fatto di detenere delle criptovalute obbliga colui che le detiene a presentare la dichiarazione dei redditi compilando il quadro RW che è quello appunto specifico per le attività finanziarie detenute in valuta estera. Questa tassazione può essere anche pagata in più rate, in 5 rate mensili appunto a partire da giugno dell'anno successivo rispetto a quello di riferimento. Naturalmente che cosa si rischia a livello di criptovalute se non si ha un consulente adeguato e se non si rispettano tutti gli adempimenti normativi? In primis si rischia una sanzione da parte dell'Agenzia delle Entrate per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi perché molto spesso cosa succede? Tante persone pensano che io ho poche criptovalute ho fatto un piccolo investimento non supererò mai i famosi 51.000 euro quindi non devo fare nulla e lì c'è l'errore più grave negli importi più piccoli perché ci si adagia, ci si culla sugli allori per così dire. Si pensa che avendo dei portafogli di criptovalute molto ridotti non c'è da far nulla. Invece c'è comunque anche al di sotto dei 51.000 euro da presentare la dichiarazione dei redditi con la compilazione del quadro RW. Chi invece ha dei portafogli più importanti, sa che ha superato il limite dei 51.000 euro e molto spesso ha meno possibilità di ricadere nell'errore di non presentare la dichiarazione dei redditi perché sa che dovrà andare a pagarci le tasse e quindi va naturalmente in automatico a elaborare anche la dichiarazione dei redditi. Quindi grande, grandissima attenzione soprattutto ai piccoli investitori in criptovalute, alle persone comune, ai ragazzi, anche agli studenti perché è sicuramente un fenomeno che prende molto piede magari anche tra i più giovani. Attenzione perché il fatto di detenere anche il corrispondente di un euro in criptovalute ci dà l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi compilando il quadro RW. Che documentazione devo conservare? Innanzitutto ti consiglio di conservare tutti quelli che sono i tuoi statement e di conservare una documentazione che ti permetta sempre di risalire a quello che era il saldo delle tue cripto al primo gennaio di ogni anno e al 31 dicembre di ogni anno perché quella sarà la documentazione che servirà per la compilazione della tua dichiarazione dei redditi. Senza quella non potremo andare da nessuna parte, non potremo compilare la dichiarazione e ricadremo nel famoso rischio della sanzione da parte dell'agenzia delle entrate di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi. Naturalmente non c'è bisogno che te lo dica. Se hai bisogno di una consulenza su questi temi o della presentazione della dichiarazione dei redditi per i tuoi conti cripto o per i tuoi conti trading puoi cliccare al link sottostante. È sempre un piacere ascoltare il dottor Federico Pampana che ci ha chiarito diversi dubbi e ha risposto a diverse domande. Adesso come sempre vi lasciamo con il nostro servizio di dichiarazione criptovalute dove all'interno della pagina che troverete qui in basso sotto al video in descrizione avrete la possibilità di avere maggiori informazioni sulla fiscalità di criptovalute NFT trading di criptovalute e trading tradizionale cliccando su questo pulsante avrete l'opportunità di acquistare una delle due consulenze la consulenza fiscale oppure la consulenza fiscale pro nel caso in cui abbiate bisogno di dichiarare anche NFT dovete fare dei ravvedimenti oppure avete bisogno di una dichiarazione dei redditi totale completa. In basso in descrizione troverete il link io vi saluto e ci vediamo in un prossimo video ciao e a presto